Il Natale 2020 di Pesaro cambia dimensione. Annullata a causa Covid la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero, che continuerà comunque a splendere grazie all'installazione di 20.000 luci a LED insieme alle lanterne dislocate in tutti i quartieri cittadini, l'amministrazione ha pensato di mettere in campo nuove iniziative. L'abbiamo dovuto rimodulare, abbiamo cercato di salvare diverse iniziative. Quest'anno, ad esempio, un'iniziativa che porteremo è quella del trenino natalizio, perché proprio il trenino è un mezzo di trasporto e sarà adibito negli standard di distanziamento e sicurezza. Il trenino natalizio potrà essere a disposizione di tutte le famiglie, soprattutto dei bambini, sarà allestito chiaramente con dei componenti che riguardano il Natale e questo trenino andrà in giro per tutto il centro storico, toccando le vie principali del centro storico, facendo diverse fermate. Un'altra cosa che abbiamo cercato di salvaguardare è quella comunque sia del presepe, il presepe di ghiaccio, grazie alla collaborazione con Riva Cold e Guerra Graziano Trasporti. Quest'anno, nella piazza principale, nella piazza del Popolo di Pesaro, avremo questo presepe di ghiaccio in collaborazione con gli scultori dell'Accademia Italiana Ghiaccio Artistico e verrà rappresentata la Natività e tre importanti personaggi culturali e artistici del nostro territorio. Un occhio particolare è rivolto anche ai quartieri. ai quali saranno destinate alcune risorse avanzate dal milione di euro destinato alla città a causa Covid. Ogni quartiere avrà a disposizione circa 1000 euro, la cifra la stiamo un attimino definendo, e con queste 1000 euro possono comunque sia realizzare delle attività o degli addobbi all'interno del quartiere. Il Natale peserese si rivolge anche alle agenzie di viaggio, agli artigiani e agli ambulanti, con il viaggio solidale del Natale. Dal 28 novembre al 6 gennaio, i commercianti e gli artisti che solitamente riempivano la piazza e le vie del centro storico avranno l'opportunità di esporre le loro creazioni nelle vetrine delle agenzie. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Servizio Attività Economiche al numero 0721 387 476. E proprio al commercio di vicinato, il Comune ha deciso di destinare 20.000 euro, provenienti ancora una volta dal milione di euro ottenuto da Pesaro per l'emergenza Covid, attraverso un bando creativo attivo da domani sul sito del Comune, che premierà le migliori idee degli esercizi commerciali. Le attività potranno presentare un progetto di marketing, comunicazione e promozione, in grado di valorizzare il territorio. Le migliori 10 riceveranno un contributo di 2.000 euro per le iniziative realizzate entro il 31 dicembre 2020. Abbiamo pensato anche a un bando per le attività economiche, con dei risparmi rispetto al milione del fondo anticrisi ottenuto dal governo, per premiare 10 progettualità che vadano a sostanzialmente promuovere vie legate al commercio, piazze legate al commercio o associazioni anche temporanee di negozi e di imprese per studiare strumenti nuovi di marketing e di promozione, di contrasto a questo momento di crisi, ma anche per far nascere al momento negativo anche delle opportunità che poi possono rimanere strumenti commerciali, strumenti di promozione, strumenti di marketing che rimangano.